Poi mi raccontò che un giorno Aveva appunto 15-16 anni C'era una festa in paese Però era pagamento Non si poteva cedere Siccome lui i soldi Non aveva da buttare Per divertimento Voleva però vederla Questa festa E c'era un enorme muro Di 6 metri, 7 metri E lui Prende una scala Va su Guarda la festa E prende questa ispirazione Della musica La gente che ballava Balli ovviamente dell'epoca Quindi magari Ballo liscio E gli viene questa ispirazione Non lo so Preso dalla sfortuna Comunque la scala cade Si spacca quattro denti E il setto nasale Torna a casa Pieno di sangue Con il setto nasale Rotto e quattro denti Mancanti Sua palo picchia Perché dice Cosa hai fatto Dove sei andato a cacciarti Però da quell'episodio Lui dice Mi si è aperta una visione Che era il mondo Della musica e del divertimento Quindi decise di fare poi Lo switch Dalla pasticceria Che alla fine È semplicemente Uno strumento Un mezzo per partire Ma non era la sua passione A comprare a 21 anni Il terreno Della sua prima discoteca Sempre in provincia di Brescia Orzinovi Che si chiamava poi La discoteca Calua